Per quanto riguarda i vani, sappiamo che il vano viene riconosciuto su un perimetro chiuso da oggetti tipo involucro, involucro curvo, facciata continua, facciata continua curva e infine dall'involucro fittizio. L'involucro fittizio ci servirà a definire la chiusura dove non sono presenti dei muri, quindi ad esempio qui posso chiudere il perimetro con un involucro fittizio. Sempre in merito ai vani, possiamo definire delle zone. Nel navigatore e in particolare nel nodo zone possiamo creare tre livelli di zone. Sul primo livello voglio creare due zone, ad esempio quelle relative all'appartamento 1 al quale possiamo assegnare un colore di rappresentazione, ad esempio questo viola e il relativo retino che scegliamo sempre nel nostro catalogo, nel nostro libreria oggetti BIM. quindi utilizzo ad esempio questi qui, anzi. Stessa cosa per l'appartamento 2. scelgo qui un altro colore e un altro retino oppure per un altro livello potremo aggiungere altre informazioni, ad esempio quella relativa scelgo alla zona giorno, alla quale assegneremo il relativo colore e alla zona notte. sceglieremo un altro colore. Vediamo come assegnare le zone ai vani. Ritorniamo dal nostro piano terra, possiamo fare una selezione multipla di tutti gli oggetti. A destra filtriamo solo i vani e diciamo questi vani sono relativi all'appartamento 1 e poi scegliamo se è zona giorno o zona notte. Oppure selezioniamo in questo modo, quindi solo i vani di questa zona qui, saranno quelli della zona giorno, solo questi qui vanno, saranno quelli della zona notte. Questo ci consentirà di vedere direttamente nella vista livelli le zone. Quindi abbiamo visto che nella colorazione vani possiamo dire visualizziamo la zona L1, quindi sarà tutto dell'appartamento 1, oppure visualizziamo la zona 2 e quindi dividiamo la colorazione per zona notte e zona giorno. Potrebbe essere un'altra suddivisione possibile, potrebbe essere quella relativa alle destinazioni d'uso, quindi abitazioni, uffici, garage o tutte le suddivisioni che ci aiutano poi nel riconoscimento di zone che possiamo poi raggruppare eventualmente in tabelle. Allora, vediamo come arredare un ambiente. Lo possiamo fare attraverso i blocchi 3D. Apriamo la libreria oggetti BIM. Abbiamo l'arredo interno, ad esempio dei tavoli, delle sedie. Selezioniamo l'oggetto, confermiamo e inseriamo la nostra sedia. Prendiamo un altro oggetto, poltrone e divani, selezioniamo il divano, confermiamo e lo posizioniamo. E così via, fino ad arredare l'intero appartamento. Mi ricordo inoltre che la libreria oggetti BIM è anche online, quindi cliccando su questo bottone è possibile accedere ad una libreria di oggetti online con diversi blocchi, sia per l'arredo interno, esterno, abbiamo cucine completi, altri modelli di divano, decorazioni o l'arredo urbano o l'arredo relativo alla cucina e così via. Quindi per utilizzare un oggetto inserito nella libreria di oggetti BIM è sufficiente cliccare sul bottone per il download e poi inserire l'oggetto. Vediamo il risultato direttamente in 3D. La vista 3D può essere parzializzata anche attraverso questo box vista. Cliccando sulla faccia taglio il mio edificio, lo porto nella vista che mi serve e vediamo gli oggetti che sono stati inseriti. Resettiamo il box e chiudiamo e ritorniamo nella vista normale. Questa vista box sezione possiamo utilizzarla anche per modellare il nostro edificio, quindi entriamo all'interno dei nostri ambienti in questo modo. Nascondiamo il box e continuiamo la modellazione in 3D entrando direttamente nell'edificio, ad esempio per inserire i punti luce. Quindi introduciamo anche questa scatola portafrutti, ne mettiamo una qui, quindi con un punto inseriamo, con quello successivo definiamo la rotazione. Ne mettiamo un altro qui, stessa cosa. A questo punto analizziamo la scatola portafrutti, la selezioniamo, possiamo scegliere il colore o l'applichiamo a tutte le entità e la serie, quindi se è rettangolare, rettangolare ellittica o ellittica e confermiamo. E poi su ogni singolo elemento abbiamo la possibilità, sulla destra, di scegliere se vogliamo una presa bipasso o un coperchio chiuso. Qui abbiamo tutti i modelli della nostra libreria, quindi qui potremmo scegliere un interruttore e infine una scatola portafrutti e infine una scatola di derivazione. Ad esempio portiamo qui. Possiamo spostarla. Chiudiamo il box sezione, ritorniamo al piano terra e qui vediamo tutti i nostri oggetti. Possiamo riallineare, ad esempio utilizzando stesso le funzioni offerte dalla maniglia. Vediamo adesso come realizzare le tavole grafiche. Aprendo il menu degli oggetti nell'ultimo rigo vediamo le diverse possibilità che abbiamo. Quindi possiamo inserire una planimetria, una pianta, una sezione, un prospetto, una sonometria, eventualmente una camera che ci aiuterà ad avere delle viste di renderizzazione. Iniziamo con la planimetria. Per inserire una planimetria è sufficiente un clic e viene aggiunto qui il nodo relativo alla planimetria. Per aggiungere una pianta è sufficiente un clic per inserirla e poi sarà necessario definire l'offset, quindi il taglio, la quota del taglio della pianta e confermare. E viene aggiunta qui la pianta. Per la sezione occorre dire i due punti per i quali vogliamo sezionare il nostro edificio. Per quanto riguarda il prospetto è sufficiente dire l'estensione della parte che voglio rappresentare nella tavola. Per quanto riguarda la sonometria sarà necessario andare nella vista 3D, scegliere la vista che vogliamo rappresentare e disegnare un rettangolo. Analizziamole una per volta. Planimetria. La planimetria è una vista dall'alto del nostro edificio, quindi possiamo scegliere qui se visualizzare o meno le linee, entrare qui e scegliere una visualizzazione con o senza colori, attivare o meno le ombre e scegliere alcuni aspetti grafici. Vediamo il piano terra. Nel piano terra abbiamo utilizzato delle stratigrafie inizialmente di default, poi abbiamo sostituito alcune stratigrafie. Vediamo quali sono le personalizzazioni. Una personalizzazione che possiamo dare è quella relativa alla scala grafica, quindi inseriamo qui la nostra scala, oppure quella relativa proprio al particolare della stratigrafia, quello che abbiamo scelto insieme, quindi ce l'abbiamo qui e lo portiamo in questo modo. Poi possiamo aggiungere altri dettagli come ad esempio la leggenda stratigrafia e quindi abbiamo per ogni retino la relativa stratigrafia. Vediamo come quotare questa tavola. Quindi veniamo qui, possiamo aggiungere tutti gli elementi della grafica 2D, possiamo utilizzare queste misure lineari, quindi seleziono i due punti che voglio quotare, ad esempio questo lato del mio edificio, da questo punto, a questo riporto la quota. Posso utilizzare questa misura lineare con la quale definisco l'asse lungo cui voglio la quotatura e poi seleziono i punti in questo modo e ottengo la quota. Oppure utilizzo questi automatismi che mi consentono di selezionare l'oggetto e quotarlo, oppure farlo lungo una linea di sezione, quindi traccio una linea e tutti gli elementi vengono quotati e posso terminare. Per quanto riguarda i vani, poi posso utilizzare questa funzione di quotatura vani, è sufficiente fare click all'interno del vano oppure cliccare su quota tutto e verranno quotati tutti i vani. Ogni quota è modificabile dal toolbox a destra. Inoltre possiamo scegliere il nostro stile di rappresentazione perché nel menu stili possiamo scegliere uno stile dettagliato, uno stile a colori, uno stile minimale oppure cliccare su modifica e scegliere qui qual è la rappresentazione che preferiamo per le nostre piante. Quindi, ad esempio, tolgo dalla visibilità, spengo il layer relativo al disegno di XF di VG, posso scegliere di rappresentare una finestra spostiamo questa quota questa finestra abbiamo qui la possibilità di modificare il tipo di visualizzazione ad esempio aggiungendo o meno la soglia vedendo le aperture le ante aggiungendo maggiori dettagli. vediamo adesso la sezione anche per la sezione abbiamo le stesse opzioni e in particolare questa qua relative alle rappresentazioni più o meno dettagliate. Stessa cosa nei prospetti anche qui possiamo scegliere lo stile di rappresentazione e per le assonometrie quindi una rappresentazione più semplice come sempre a destra possiamo scegliere o meno i colori dei materiali o la rappresentazione semplice.